Sono 497 le domande per le agevolazioni sull'Atari presentate a Pietrasanta. Uno su tre è un pensionato e vive purtroppo in condizioni di difficoltà economiche. In 162 potranno beneficiare dell'esenzione totale della tassa sui rifiuti, avendo presentato un'ISE inferiore ai 9.300 euro. Ci sarà anche un bonus per il riscaldamento per queste persone di 180 euro. In 40, invece, potranno contare sulla riduzione del 50% della tassa sui rifiuti. Sono 36-8% in più le domande presentate rispetto allo scorso anno, quando erano state complessivamente 461. L'incremento della platea delle fasce deboli, che potranno così avere accesso alle agevolazioni, è dovuto principalmente all'abbattimento del vincolo da parte dell'amministrazione comunale, che impediva ai titolari di partita IVA di poter richiedere l'esenzione totale o la riduzione. Confermiamo la nostra attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, commenta il sindaco di Pietrasanta, Alberto Giovannetti.